E' un messaggio che chiama la solidarietà a fidelizzare tutti i suoi sostenitori, è un messaggio con toni tra virgolette inquietanti e molto forti, lo sfondo nero, la luce su di lui in primo piano praticamente proprio forte, taglio americano si direbbe credo e in tutto questo si alterna in verità perché poi c'è anche un primissimo piano, una drammatizzazione importante. Una forte drammatizzazione che spiega il momento e che ovviamente aiuta moltissimo i suoi seguaci, i suoi elettori, gli elettori della Lega a trovare ovviamente un punto di contatto con uno sgarbo, con quello che evidentemente lui dice nel video. Questo perché noi sappiamo già qual è stato il messaggio nei secoli, nei tempi ultimi sul fatto che c'è un innesto politico della magistratura e in questo caso ovviamente viene colta la palla al balzo per raccontare questo fatto. Bisogna stare molto attenti perché questi sei anni richiesti diventano un tema forte perché io penso sempre al dopo, cioè a tutto quello che può accadere dopo nel caso che ci siano o non ci siano, perché diventa un angolo entro il quale spingersi perché nel caso ci fosse un'accusa diventa molto forte poi il messaggio e anche la possibile diciamo pena e allo stesso tempo se ci fosse una soluzione diventerebbe poi un gioco con il quale gli italiani andrebbero a credere che ci sono stati dei dispendi di soldi per un fattore politico, per cui non tutti ovviamente sostengono la parte politica. Mi sembra che questo si possa dire con serenità.